Andrea Camilleri La mossa del cavallo Decima parte Ancora mercoledì 3 ottobre 1877 Avvocato mi deve cridire disse spampinato io e l'amantia abbiamo smirciato ogni centimetro dal rel piecione che ragionieri ci aveva detto e abbiamo tagliato magari torno torno Nenti non solo non c'era il catafero di pace carnazza ma non c'era manco la minima macchiuzza di sangue E Bovara che disse quando gli avete contato che il morto non c'era Nenti disse svenne l'ongosti innicchiato in terra e che avete fatto abbiamo chiamato il dottore Ci ha dato a vivere uno sciroppo per dormire Dice che dormirà per almeno quattro ore e quando si arrisbiglia che dobbiamo fare Quando si arrisbiglia lo ha ricompagnato dalla sua casa Le sue colpe non sono da galera almeno fino a quando non verrà condannato E porta sulle spalle un carrico pesante Turbativa dell'ordine pubblico Propalazione di voci false e tendenziose Diffamazione Ma poi io da cristiano mi passo una mano sulla coscienza e mi domando Sono vere colpe? Oppure si tratta di un povero pazzo che dice cose senza manco sapere quello che dice? Va bene ho capito Ora come ora noi non ci possiamo fare Nenti E no carissimo Lei può fare qualche cosa Anzi è suo dovere farlo Si spiegasse avvocato Lei deve fare un rapporto scritto sulla facenna in quattro copie Subito Ora stesso Deve contare il fatto così com'è Senza una parola più o una meno La prima la manda a mano al suo superiore Il questore Le altre c'è Le manda per conoscenza al signor prefetto Al comandante dei carrabbinera E al procuratore del re A così se qualcuno stava facendo qualche cosa in base alle denunzie di questo pazzo Si ferma a tempo e non fa male figura È ragionato? È ragionato è Ma avvocà Me lo fa un favore Se posso Me lo scrive Vossia il rapporto Io ci metterei una giornata intera Va bene Ha un patto però Tutti lo devono ricevere Massimo tra due ore Il cainello ideato da Don Cocò Andava che era una meraviglia L'avvocato fasulo intinse Sorridendo La penna nel calamaro Mentre tagliava l'avvocato che scriveva E ogni tanto gli faceva qualche domanda di precisazione Spampinato venne pigliato da un pincero Che espresse ad alta voce E se non fosse morto? L'avvocato fasulo restò con la penna a mezz'aria Sapeva benissimo che il parrino era passato a peggior vita E conosceva magari il posto dove in quel momento il catavere se ne stava Ma doveva fare finta di non sapere niente Giocare al gioco Come non è morto? Avvocato Mi stassi a sentire Noi di tutta questa facenna Sappiamo solamente quello che ci ha contato il ragioniere Mi segue? La seguo Ma siccome si tratta di un pazzo Può darsi che pace carnazza non è mai stato sparato E piccamora è in chiesa che dice l'avemarie Oppuro è vero che è stato sparato ma non è morto Dopo tant'icchia si è sussuto Ed è andato a farsi curare la ferita In questo secondo caso però il ragioniere tanto pazzo non sarebbe E io con questo rapporto non posso andare a dire Che Bovara è completamente fora di testa e dai numeri Il suo ragionamento fila Disse fasulo facendo finta ad essere d'accordo Picchi non fa un salto in chiesa Mentre io finisco il rapporto E si informa se il parrino tornò Può magari mandare qualciduno dei suoi uomini A spiare a tutti i medici di Montelusa E all'ospitale Se hanno visto a pace carnazza Se in chiesa non si è fatto vivo E se nessuno ne sa niente Mandiamo il rapporto La chiesa era piena di gente come alla festa di San Girlando Sull'altare maggiore al posto del parrino C'era una fimmina che cantava I fideli la stavano a sentire Non solo tutto il paese aveva saputo Che il parrino era stato sparato Ma tutti conoscevano magari Che il corpo non era stato ritrovato Da quest'ultima notizia La signora Ersiria Cucurullo Aveva formulato chiaro concetto E cioè che come Gesù Pace carnazza era risuscitato E per questo non lo trovavano Sarebbe indubbiamente ricomparso Ai suoi fideli Perciò l'inno che in quel momento Stava cantando si chiamava Resurrequisit Il delegato non ebbe bisogno di spiare Per capire che il parrino Non era tornato in chiesa Andò in delegazione Bovara ancora dormiva Sul divano dell'ufficio Chiamò quattro dei suoi uomini E li spedì a domandare notizie Ai medici e all'ospitale Tornarono dopo un quarto d'ora Nisciuno aveva veduto A pace carnazza Si portò i quattro uomini appresso E li fece aspettare per strada Davanti alla porta dello studio Dell'avvocato Fasulo Acchianò solo Possiamo mandare rapporti I meomini sono qua sotto Che aspettano Nisciuno sa niente Di questo parrino Teneva gli occhi chiusi Ma non dormiva Quello che gli aveva fatto bere Il medico Non aveva avuto effetto Dubitava che potesse esistere Una medicina Che avesse il potere Di dargli la quiete del sonno Ogni tanto il suo corpo Era scosso da lunghi Violenti brividi Doveva avere la febbre Un pinsero insistente Gli martoriava il ciriveggio Come un ciapano Il ricordo di Barba Picinu Un fratello di Somoe Non era un vero arregordo Perché lui a questo Barba Non l'aveva mai canosciuto Ma in famiglia Ogni tanto ne parlavano Di quella volta che a Palermo Era scinuto dal ceno Completamente nudo E con una pegua aperta Di quell'altra volta che Mentre si recava in chiesa Per Natale La natività di Nostro Signore Era saltato tra gli attori Aveva stretto la mano All'attrice che faceva Maria Congratulandosi E le aveva spiato Se la creatura appena nasciuta Fosse masco L'offimmina Barba Picinu Era morto in manicomio Che lui aveva già Doze anni Possibile che il matto Fosse ereditario? Letto il rapporto Del delegato Spampinato Il questore Si fece un dovere Da andare di corsa A trovare Sua eccellenza Il signor prefetto Eccellenza Ho ricevuto in punto Un rapporto Del delegato Spampinato Sull'ispettore capo Ai Molini Bovara Giovanni Che Anch'io L'ho ricevuto E l'ho letto Disse Sua eccellenza Ha qualche idea In proposito Mi permetterei Di suggerirle In attesa Di sviluppi Che intanto Bovara Si è sospeso Dal servizio Sua eccellenza Fece chiamare Il capo di gabinetto Ditemi Curto passi L'intendente Di finanza È tornato in ufficio Signor no È ancora a Palermo In ospedale Malato E chi lo sostituisce? Ci sarebbe Il dottor Barreca Che è provvisoriamente Facente funzioni Del futuro Facente funzioni Va bene Ora scrivo Due righe A Barreca È uno alto Biondo Coi baffi Signor no Eccellenza È corto Grasso E nero di pelo Fa lo stesso Provvederete A fargliele Recapitare Immediatamente Il ragionier Bovara Non è in grado Di intendere Di volere Può provocare Disordine In ufficio E fuori dall'ufficio Va subito Sospeso Dal suo incarico E dallo stipendio In attesa Di ricovero Davanti al palazzo Il procuratore Del re Re Baudengo In control Presidente del tribunale Il grande ufficiale De Magistris Si strinsero la mano Il presidente Pareva avere prescia Mi scusi Se non mi trattengo Con lei Ma devo correre A casa A cambiarmi Lei non viene Al ricevimento Della Marchesa Papia Pare che a intrattenerci Stasera Ci sarà Monsieur Ducro Un illusionista E prestidigitatore Che tutti dicono Fenomenale No Non vengo Mia moglie Non si sente bene E poi a me Non piacciono I giochi di prestigio Disse Re Baudengo Che aveva appena Finito di leggere Il rapporto Del delegato Spampinato Malgrado tutto A un certo momento Doveva essersi Appinnicato Perché si svegliò Con una mano Che lo scutuliava Ragioniere Eh Spampinato sono Si svegli E' quasi scuro La riaccompagniamo A casa La notizia L'allegrò Buttò giù Le gambe dal divano Ma non ce la fece A reggersi a gitta Barcollò E la mantia Lo tenne Affirrandolo Per un braccio Fora della Diligazione Giovanni Non vide Stigiuzzo Il cavallo Non si preoccupasse Della vestia Disse la mantia Capendo il motivo Dell'esitazione Di Giovanni L'abbiamo portata Nella nostra stalla D'altra parte Vossia Non è in condizione Di stare a cavaggio E io come faccio Senza vestia Vossia Stanotte si riposa Domani a matino Presto La mandiamo a pigliare Vossia torna In delegazione E gli diamo il cavaggio Ma perché Devo tornare In delegazione Perché Ci sono Tante cose In sospeso Tagliò Spampinato Sbirro 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 Sempre era E perciò A malgrado Che fosse Corrotto L'ordo Di dintra E di fora Sempre da sbirro Ragionava I casi erano due E non si scappava Se il ragioniere Era un pazzo Che si era inventata Un'ammazzatina Perché il parrino Era scomparso Se invece L'ammazzatina Era stata vera Perché il ragioniere Avrebbe indicato Un posto Per un altro Acchianarono Nella carrozza Giovanni Dovette essere aiutato Per mettere il piede Sul predellino Che era alto L'amantia Si assittò Allato a Giovanni Spampinato Di faccia Dopo tanticchia Che viaggiavano Giovanni spiò Avete trovato A pace carnazza No Rispose secco Spampinato Furono Le sole parole Che si scanciarono Per tutto il viaggio Sette ore Di gran corsa Senza fermarsi Un momento Manco per fare pipì Michilino Aveva fatto Currire La vestia Che quella S'era ridotta Con la schiumazza Alla bocca Sballottata D'intra la carrozza Donna Cesina Si sentiva La schina rotta L'osso del cozzo Che le doleva Dopo Valle d'olmo Michilino Imboccò La trazzela Che portava All'iminusa La conciata D'incialfeudo Roccella Del quale Pino Il marito Della soro Di donna Cesina Agata Era il campere Soprastante Michilino Che in quel posto Già una volta Ci aveva accompagnato La paciona Scinnì E andò A tuppiare Alla porta Mentre donna Cesina Faticava a ripigliare L'uso delle gambe La porta Si raprì E apparse Pino Con un lume In mano Parlò Con Michilino Gridò Agata Tosoro Cisina C'è E corsa Ad aiutare Scinniri La cognata Che sempre Gli aveva fatto Sangue E che Fino a questo Momento C'era solo Mancata L'occasione Buona Chi fu Questa Bella Improvvisata Ah Pinuzzo Mio Morta Sono Di Scanto E Di Stanchizza E Di Cuto Scanti Cisine Qual C'è Tua Cugnato Pinuzzo Che T'ha Difende E L'abbracciò Cesina Si lasciò Abbracciare Pinuzzo La Scrinse Tanticchia Di Più Del Necessario Cisina Si lasciò Scringere Tanticchia Di Più Del Necessario Il Cognato Castamente La Baciò Sulla Fronte Cisina Gli appoggiò La Testa Sul Petto E In Quel Momento Sulla Porta Di Casa Comparse Agata Una Mantella Del Marito Sulle Spalle Un Lume In Mano Cisine Giuiuzza Mia Che Ti Capito Pino Si sciolse Dalla Abbraccio Non Sarebbe Mancata Occasione Attilio Lagumina Ufficialmente Proprietario Del Mulino San Benedetto Stava Chiudendo Il Portone Per Tornare A Casa E Corcarsi Dato Che Ogni Matina Alle Quattro Si Susiva Per Ripigliare Il Travaglio Quando Sentì Un Cavallo Arrivare Di Corsa Lagumina È Chiuso Tornate Domani A Matino Non Poteva Stare I Commodi Di Chi Si Appresentava Fora Orario Magari Con Mezzo Sacco Di Ciciri Pimia Il Vostro Molino È Sempre Aperto Riconobbe La Voce Arrogante Di Sciaverio Pipitone Quello Che Ogni Tanto Veniva A Portargli Ordini Con Questo Scuro Non T'Aveva Riconosciuto Sciaver Pipitone Scese Da Cavallo Gli Si Avvicinò Che Stai Facendo Non Lo Vedi Stai O Chiudendo Rapri Senza Spiare Picchi Lagumina Obbedì Ciasirono Nel Mulino Adduma Il Lume Chiudi La Porta Attilio Fece Quello Che Gli Era Stato Detto Ancora Senza Raprire Bocca Vuoi Un Bicchiere Di Vino No Stamattina Venne Qua L'Ispettori Sì Trovò Le cose In ordine Come Ti Avevo Detto Di Fargli Trovare Certo Stamattina Non Venne Eh Sordo Diventasti Stamattina Tu Non L'hai Visto Ma A Chi Non Vedi Benedetto Signori A Bovara A questo Ispettori Non È Venuto Nel Molino Ah Sì E Dove Andò E Che Mene Fotta Mia Dove Minchia Andò L'importante È Che Non Venne Qua Chi C'era Stamattina Che L'ha Visto Pirsoni Per Macinare Non Ce N'erano Ma L'hanno Visto Antonio Pirrera E Mimì Catalano Quelli Che Travagliano Qua Pirsoni A posto A postissimo E ora Dove Sono Se ne Sono Tornati A casa Domani Mattina Alle Quattro Devono Tornare Qua Va Bene Appena Abbiamo Finito Tu li Vai A trovare Ci Parli E Ci Dici Che Magari Loro Stamattina Non Hanno Veduto All'Ispettori Va Bene Ci Possiamo Fidare Di Questi Due Come Di Mia Stesso E Di Tia Ci Possiamo Fidare Attilo Lagumina Gelò Con Sciaverio Non Era Cosa Di Babbio Vuoi Coglionare Beh Allora Tutto È A posto Io Me Ne Torno A Montelusa Buonanotti Aspetta Fece Lagumina Che C'è Il Regisio Che È Sto Regisio Il Regisio Che Segna Le Ispezioni C'è Scritta La Data Di Oggi E C'è La Firma Degli Ispettori Fallo Scomparire E Non Posso Se Faccio Una Cosa Accussiva In Galera Viene A Dire Che Sa Bruscia Ma È La Stissa Cosa No Se Farla Bruciare Da Solo Si Fa Così Tu Domani Quando Vieni A Raprire Aggiungi Il Lume Giusto Sì E Dopo E Dopo Il Lume Ti Cade Di Mano E Regisio Che Era Proprio Nel Punto In Dove Che Ti È Caduto Il Lume Si Abbruscia Magari Si Abbrusciano Solamente Due Tre Pagine Ma Una Deve Essere Quella Di Stamatina D'accordo Sì Ma Se Putacaso L'incendio Diventa Vero Abbruscia Ogni Cosa Devi Dire Ai Due To Aiutanti Che Devono Arrivare Qua Dopo Cinque Minuti E Ti Aiutano Ad Astutare Il Fuoco Dopo Però Corri Dai Carrabbinera Di Cianciana E Denunzi Il Fatto Dell'incendio Ma Riccomando Posso Riferire Che Tu Farai Il Doviri Tuo Sempre Agli Ordini Fece Attidio Lagumina Dommem Moro Stava Firriando Lume In Mano Cammara Presso Cammara Nella Casa Di Fondo Percoco Che Ora Non Si Sapeva Più A Chi Apparteneva Essendo Morto Quel Grandissimo Garruso Di Parrino Che Gliel' Aveva Alevata Gliel'aveva Alevata Ma Non Se L'era Potuta Godiri Lui Gli Aveva Sparato Come Aveva Sull'ennemente Giurato Aveva Mirato Alla Faccia E Invece Questo L'aveva Veduto Chiaramente L'aveva Pigliato Al petto Le Lezioni Di Aliquò Gli Avevano Portato Giovamento Sentì Una Carrozza A Ciasiri Nel Baglio E Corse A Mettersi A Letto Doveva Mostrarsi Affebrato Come Il Dottor Landolina Gli Aveva Detto Sentì Una Voce Ehi Di Casa Don Memè La Riconobbe Era Quella Dell'avvocato Lo Surdo A Chianassi Avvocà Corcato Sono Lo Surdo Ciasi Nella Cammara Che Appareva Agitato Perché Si Corcò A Quest' Ora Bonasir Avvocato Sono Corcato Perch'io Tanticchia Di Febbre Stamattina Vinne Il Dottor Landolina Mi Visitò E Mi Disse Di Guardarmi Se Aveva Avuto Un Minimo Dubbio Ora L'avvocato Gli Scomparse Se Il Dottor Landolina Notoriamente Omo Di Don Cocò Aveva Dichiarato Che Don Memè Pativa Di Febbre Questo Stava Significare Che Don Memè Scoppiava Di Salute E Quindi Il Suo Cliente Non Aveva Saputo Reggere E Aveva Ammazzato Il Parrino Lo Sa Che Avrebbero Sparato A Pace Carnazza Sì Me Lo Disse Uno Che Mi Venne A Trovare Si Interruppe Tagliò L'avvocato Con Gli Occhi A Fessura Come Sarebbe A Dire Avrebbero Eh Sì Il Ragioniere Bovare Andato A Spampinato Ad Avere Trovato A Padre Carnazza Moribondo E Questo Me L'hanno Detto Però Il Fatto È Che Quando Spampinato Andò A Cercare Il Parrino O Il Suo Corpo Non Lo Trovò Questa Don Memè Non La Sapeva Sudò Non Lo Trovò No Signore Non C'era Almeno Così Contano In Paesi Molto Probabilmente Pace Carnazza Era Solamente Ferito E Il Ragioniere Lo Credette Moribondo Si Vede Che Il Parrino Si Arripigliò Si Susì E Si Andò Ad Ammucciare Per Farsi Curare Saranno Cazzi Amari Per Chi Gli Ha Sparato E L'ha Creduto Morto Quando Se Lo Vedrà Ricomparire Davanti Risuscitato Don Memè Principiò A lamentarsi Come Un Cane Sconsolato Si Sente Male L'avvocato Pinsò D'Aver Esagerato A Mettergli Scanto Don Memè Da Parte Sua Si Sentiva Pigliato Dai Turchi Era Sicuro D'averlo Colpito In Pieno Petto Al Parrino Capace Che Ferito Mortalmente Avesse Fatto Qualche Passo Dopo Il Ritrovamento Da Parte Di Bovara E Poi Fosse Andato A Morire D'Incia Qualche Sdirrupo Questo Pinsero Lo Confortò Avvocato Le volevo Spiare Una Cosa Mi Dica In Caso Di Morte Di Pace Carnazza Non Avendo Lui Eredi La Robba Torna Mia C'è Speranza Devo Pensarci Bene Accusi Ora Come Ora Non Saprei Che Dirle Ma Prima Prima Bisognerà Essere Sicuri Che Pace Carnazza Sia Morto Non Le Pare Arrivati Davanti Al Cancello Di Legno La Gente Che Portava La Carrozza Scinnì Lo Raprì E Rimontò La Carrozza Proseguì E Si Fermò Proprio Davanti Alla Porta Della Casa Di Giovanni Siamo Arrivati Disse La Mantia C'era Scuro Fitto Giovanni Cercò In sacchetta La Chiave La Trovò Buonanotte Fece Allora Siamo D'accordo Domani A Matino Passiamo Verso Le Otto A Pigliarla Disse Spampinato Giovanni Fece Per Raprire Ma S'accorse Che La Porta Era Aperta Doveva Esersi Scordato Di Chiuderla Qualche Volta Gli Capitava Ciasì Dirigendosi Verso Il Tavolino Dove C'era Il Lume Ma Incespicò E Cadde Facendo Un Grido Spampinato E La Mantia Che Stavano Per Montare In Carrozza Ciasirono Di Corsa Nella Casa Non Vedevano Niente Che Fu Spiò Spampinato Giovanni Non Rispose Si Era Messo A Chianceri La Mantia Addumò Un Sol Fanello Alla Debole Luce Si Addunarono Che Il Ragioniere Era Inciampicato Ed Era Caduto Sotto A Lui Ci Stava Il Catafero Di Pace Carnazza